E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario l'uomo di 28 anni di nazionalità cubana che questa mattina abitonto in provincia di Bari avrebbe accoltellato a morte Antonio Monopoli di 50 anni durante una lite in strada. L'uomo era stato bloccato subito dopo i fatti dalla polizia. Da quanto emerge dai rilievi eseguiti dagli agenti, Antonio Monopoli sarebbe stato ucciso con tre coltellate. Secondo quanto ricostruito finora, vittima e aggressore si sarebbero incontrati in una delle stradine del centro storico dove avrebbero discusso con toni accesi. Al culmine del litigio il 50enne sarebbe stato accoltellato. La vittima si sarebbe trascinata verso il punto di primo soccorso ma in via Bellini si è accasciata sull'asfalto. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Il 28enne invece è stato trovato nei bagni della stazione della città ed è stato portato in commissaria. Sono in corso le ricerche dell'arma del delitto. Le indagini coordinate dalla procura di Bari, oltre a poter contare sui rilievi eseguiti dagli agenti della polizia scientifica, si stanno avvalendo anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.